Dinamicità, determinazione, cura per l'ambiente. Questo è il motto che le voci delle nuove generazioni dei Geometry Green intonano con gran permetta. Tanti individui che hanno scelto la difesa e l'alleanza con la madre di tutte le madri, la natura. Sono tecnici qualificati che si confrontano giornalmente con figure professionali, come gli esperti in progettazione urbana sostenibile, i geologi, esperti in risparmio energetico ed esperti in nuovi materiali. Renditi partecipi della costruzione di straordinarie opere edile e avanguardistiche che uniscono natura e sostenibilità alle tecnologie più avanzate dell'era contemporanea. Cosa aspetti? Unisciti alle giovani leve dei Geometry Green per combattere il più grande nemico del nostro paese, la crisi climatica ed ecologica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.